Buon pomeriggio dalla redazione del Tg della Mobilità. Le notizie sulla viabilità in apertura di questa edizione delle 17 è iniziato oggi per proseguire anche domani un intervento in via Salaria all'altezza di Ponte Salario. Forti rallentamenti in direzione del raccordo anulare anche per un restringimento della carreggiata. Modifiche alla viabilità anche su Largo Somalia con divieti di sosta e circolazione dovuti ad un ampliamento del cantiere che è aperto dalla scorsa estate. Divieti anche in via di Villa Chigi mentre a via Mancinelli il nuovo senso unico di marcia da Largo Somalia a Viale Boito. Le altre notizie, orario prolungato questa notte per le linee della metropolitana come sempre nelle fine settimana. Le ultime corse dai capolinea per metro A, metro B e metro C partiranno all'1.30. Orario lungo anche per il tram 8 sui binari sino alle 3 di notte. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità.